Ciao amiche mie, sebbene si parli già di capitolo finale, a proposito, lo trovi completo sul mio canale, con aggiunta finale esplosiva. Vi racconto gli avvenimenti che sveleranno nuovi dettagli della trama. L'episodio si apre con l'arrivo sorpreso di Fikret alla maestosa villa, una tensione palpabile si diffonde nell'aria, dipingendo il suo volto con un'espressione visibilmente agitata. Adagiando i suoi passi nel sontuoso salone, Lutfi e Zuleya lo guardano con occhi preoccupati, avidi di comprendere il mistero che si cela dietro quella inquietudine. Fikret, invece di rispondere direttamente, crea un sottile velo di mistero intorno a sé e sull'intera situazione, sfruttando il suo silenzio come un'arma narrativa. Chinando leggermente la testa, Fikret solleva lo sguardo, trasmettendo interrogativi silenziosi, mentre l'atmosfera si carica di suspense. Un'improvvisa domanda su Keremali esce dalle sue labbra, il cui significato sottolinea la profondità dell'intrigo che sta per svelarsi. E così, nella tranquillità apparente del salone, Lutfi, desiderosa di placare le crescenti preoccupazioni di Fekeli, si affretta a rassicurare. «Ha mangiato ed è a riposo. Tranquillizzatevi. Dopo aver giocato con Leila, ora sta bene», sussurra, cercando di stemperare l'atmosfera carica di tensione. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, un'ansia palpabile si insinua nei cuori di Lufia e Zuleia, un'ansia che li spinge ad incalzare Fikret per svelare l'arcano che si cela dietro la sua agitazione. Fikret, resistendo per un istante, cede alla pressione e rivela un segreto sconvolgente. Lo zio di Keremali ha intenzione di portarlo negli Stati Uniti. Le notizie colpiscono Lufia e Zuleia come un fulmine, lasciandole attonite di fronte a una realtà che cambierà il corso delle loro vite. Nel frattempo, Fadik conduce Keremali, che stringe il giovane a sé, promettendo di proteggerlo da qualsiasi minaccia di allontanamento. Ti sta piacendo questo episodio? Iscriviti al canale e… Continuiamo a scoprire cosa succede a Betul e dalla povera Zuleia parallelamente, la narrazione si sposta su Betul, ospite nella dimora di Ciolac. Con la calma apparente di chi prepara le valigie, Betul comunica a Ciolac che non può più rimanere. Le voci che circolano a Ciukurova la dipingono come l'amante di Ciolac, un'accusa che suscita indignazione in quest'ultima. Pronta ad affrontare chiunque di fami la sua reputazione, Ciolac offre la sua protezione, ma Betul, consapevole dell'impossibilità di placare le male lingue, prende una decisione drastica, lasciare la sua casa per porre fine alle voci insidiose. Con un gesto deciso, Betul afferra la valigia e parte con l'auto, lasciando Ciolac sbigottito nel silenzio che segue la sua partenza. Tuttavia, la trama si dipana ancora, invitandoci a scrutare i destini intrecciati di questi personaggi in un susseguirsi avvincente di eventi. E mentre concludiamo questo capitolo, vi invito a iscrivervi al canale cliccando la campanella per non perdere le prossime esclusive anticipazioni. La vostra partecipazione è gratuita e preziosa per la creazione di contenuti sempre più coinvolgenti. E ora proseguiamo con la storia. Nella penombra dell'ufficio legale, l'avvocato di Zuleia si rivolge con serietà a Fikret e Lutfie, esponendo la situazione con gravità. L'atmosfera è carica di tensione, mentre l'avvocato sottolinea che, secondo la legge attuale, lo zio avrebbe il pieno diritto di portare il bambino negli Stati Uniti una volta trasferito lì. Anche in caso di una vittoria legale di Fikret, la restituzione del bambino non sarebbe garantita. Siamo ancora immersi in una complessa battaglia legale, avverte l'avvocato. con il rischio concreto che lo zio possa ottenere la custodia. Fikret, visibilmente turbato da questa prospettiva, ribatte con forza. È come un figlio per me, non permetterò che me lo portino via. Tuttavia, l'avvocato lo mette in guardia, avvertendolo che lo zio potrebbe arrivare in qualsiasi momento con la polizia, avendo dalla sua parte la legge. Zuleia, alla ricerca di una soluzione disperata, suggerisce. Forse l'unica via d'uscita è offrirgli una somma considerevole, una montagna di soldi, qualsiasi cifra desideri. La conversazione si sposta poi sulle possibili conseguenze di una tale decisione, con l'avvocato esortando Fikret a riflettere anche su se stesso. Pensa anche a te stesso, Zuleia. Nel frattempo, nella dimora di Sermin, l'ansia è palpabile. Sermin condivide le sue preoccupazioni con Betul, inquiete per l'assenza di Cholac che ancora deve fare la sua comparsa. Betul risponde con una certa diffidenza, esprimendo la sua convinzione che Colac non si metterà a inseguirla come un liceale innamorato. In questa delicata scena, Sermin manifesta una speranza contrastante con il clima teso che permea la dimora di Colac. Io invece spero di sì, speriamo di non perdere questa fortuna. Sarebbe un vero spreco se l'eredità di Colac finisse allo Stato, afferma con determinazione. Il suo desiderio di preservare l'eredità suggerisce un'ottica pragmatica, quasi come se la ricchezza accumulata dovesse servire a un fine più grande. L'ingresso del signor Colac, figura centrale di questa storia, aggiunge un ulteriore strato di complessità. Mentre Sermin gli offre un tè, l'atmosfera si carica di aspettative. Colac, rivolgendosi a Betul, ricerca un contatto, chiedendo come stia. La risposta di Betul, intrisa di amarezza, svela il peso delle voci che circolano su di lei nella comunità di Ciuqurova. Il gesto di Sermin, nel promettere di proteggere Betul dalle maldicenze della comunità, suggerisce un forte legame tra le due donne. Mentre il calore del tè contrasta con la tensione nell'aria, emergono nodi intricati di destini intrecciati. La dimora di Colac diventa il palcoscenico di una serie di scelte cruciali, dove il passato si intreccia con il presente e il destino di Betul si riflette in un contesto sociale intricato. Betul, decisa a non tornare a quella vita di pettegolezzi e giudizi alle spalle, ribadisce il suo desiderio. Tutti parlano alle mie spalle, confessa con amarezza. In questo momento di incertezza, Colac propone un piano audace. Ci vedremo in Antalya o a Istanbul. Prenderemo un aereo e ci incontreremo altrove, lontano da Ciuqurova. Nonostante la speranza di Betul di una proposta di matrimonio, le attese rimangono inaspettatamente insoddisfatte, lasciandola in balia di un futuro incerto. E così immergiamoci nei meandri di questa storia intricata, mentre Fikret si ritrova immerso in profonde riflessioni insieme a Lutfie, scrutando con preoccupazione l'incertezza che circonda Zuleya e la sua missione di salvare la villa. L'ansia di Fikret emerge, temendo le potenziali chiacchiere incessanti a Ciuqurova, se anche solo per un breve istante la villa dovesse andare persa nel turbinio degli eventi. Nel mentre, Zuleya si prepara con determinazione a fronteggiare la situazione, discendendo le scale con una valigia che custodisce una soluzione al dilemma. Fikret, colto di sorpresa, cerca spiegazioni e Zuleya, con gesto risoluto, apre la valigia rivelando il bagliore dei suoi gioielli. «Pagherò con questi», pronuncia con fermezza, delineando la sua determinazione nell'affrontare le sfide imminenti. Il crepuscolo avvolge Ciuqurova e l'atmosfera è carica di tensione. L'Utfiye, con occhi preoccupati, osserva attentamente Zuleya, mentre si appresta a sacrificare i suoi gioielli. Un gesto significativo, carico di simbolismo, che non sfugge alla sua attenzione. Tuttavia, Zuleya, avvertendo la preoccupazione di L'Utfiye, la rassicura con fermezza. «Possono essere ricomprati, ma se perdiamo che malì non c'è ritorno». La risolutezza di Zuleya nel proteggere ciò che conta veramente emerge con chiarezza nelle sue parole. Decide di incaricare un uomo di convertire i gioielli in contanti, un gesto pratico e simbolico del suo impegno a risolvere la situazione a qualsiasi costo. Nel frattempo, Fikret, di fronte al fratello di Muggan, esprime il suo perdono con amarezza. «Come puoi comportarti in modo così malvagio? Vendere tuo nipote e sfruttare la morte di tua sorella per guadagnare sono azioni incomprensibili». Le emozioni si intrecciano in questa drammatica scena, rivelando le profonde tensioni e le ferite aperte tra i personaggi, mentre il destino di Kemalì pende in bilico. E così, il tavolo degli avvocati si trasforma in un palcoscenico di precisione, con sguardi scrutatori che si posano sui documenti. Un'analisi approfondita rivela che tutto è in regola e il fratello di Muggan firma l'accordo concordato. Fikret, visibilmente indignato, con passione, consegna la somma pattuita all'uomo, ma il suo sguardo è un rimprovero tagliente, un'aspra condanna per l'avidità e la crudeltà dell'interlocutore. «Sei un uomo senza scrupoli», sibila Fikret, consegnandogli il denaro. «Prendi questi soldi e lascia. La tua presenza qui è un disonore». Il rimprovero di Fikret è una lama affilata che taglia l'aria, ma l'uomo tenta in vano di giustificarsi, offrendo una donazione in memoria della sorella. Un gesto di redenzione che si infrange contro la freddezza di Fikret, che respinge con disgusto l'offerta. «Le tue azioni sono imperdonabili», tuona Fikret, cacciandolo via dalla villa con un gesto deciso, seguito dal giudizio severo degli altri presenti. Eppure, la tensione si stringe come un nodo avviluppato quando, nel prepararsi a partire, il gruppo si accorge di un'ombra che si allunga nell'oscurità. Inizialmente tre figure erano presenti, ma ora solamente due rimangono. Un presentimento cupo si insinua e il gruppo, con un impeto di angoscia, corre nella cameretta di Kemalì. Quello che trovano è un quadro di sconcertante mistero. Fadik è imbavagliata e Kemalì è scomparso. L'incertezza e la preoccupazione si diffondono come un velo nel silenzio della stanza, lasciando sospeso il destino del piccolo Kemalì nell'oscurità dell'ignoto. Il panico stringe il cuore di Fikret come un vortice implacabile di emozioni, mentre affronta Fadik in cerca di risposte. La stanza è impregnata di tensione, i loro sguardi si intrecciano in un dialogo muto. Fadik, con voce velata dall'angoscia, rivela di aver visto una pistola tra le mani del rapitore di Kemalì, un dettaglio che getta un'ombra ancora più oscura sulla già tumultuosa situazione. Senza esitazione, Fikret si lancia all'inseguimento, abbandonando la villa alle spalle, dove un caos emotivo e una marea di preoccupazioni rimangono a impregnare l'aria. La notte si avvolge attorno a lui come un mantello di incertezza, mentre la sua figura si perde tra le ombre della ricerca disperata. Nel frattempo, nel cuore della notte, il fratello di Mujgan e i suoi complici, in una scena oscura e ben orchestrata, prendono coscienza del potere che hanno tra le mani. Realizzando di poter storcere ancora di più la situazione a loro vantaggio, iniziano a pianificare un ulteriore riscatto. Fikret riesce a localizzare la macchina dei rapitori, ma il buio della notte cela ancora il destino di Kemalì. Un ritorno alla villa sconsolato, il volto segnato dalle ombre dell'incertezza e della disperazione. La luce del crepuscolo si spegne, lasciando dietro di sé un velo di incertezza, e la notte avanza con il peso di un futuro incerto. Il silenzio notturno avvolge la villa come un mantello di ansia, e Lutfie, con sguardo preoccupato, rivolge a Fikret la domanda che tutti temono. Hai trovato Kemalì? La tensione è palpabile nell'aria, le parole di Fikret, pronunciate con voce pesante, risuonano come un sinistro presagio. No. Nel cuore della notte, Zuleia, con il cuore pesante di preoccupazione, affronta l'ufficiale giudiziario, appena ritornato per mettere i sigilli alla villa. La sua voce è un sospiro angosciato che implora un po' di clemenza. Vi prego, aspettate, Gafur arriverà da un momento all'altro. Ma l'agente giudiziario rimane impassibile, sordo alle suppliche, il suo volto severo a testimonianza della rigidità delle leggi. La notte avvolge la villa in un manto di oscurità densa e Zuleia, con ghilli occhi offuscati da lacrime pesanti, si rivolge a Fadik in un angolo buio della dimora. La sua figura, illuminata solo dalla debole luce delle candele tremolanti, assume contorni sfumati dall'emozione palpabile. Il tono di Zuleia è un canto struggente di dolce disperazione. La sua voce vibra nell'aria notturna, carica di tensione. Prepara con cura le cose dei bambini e prendi anche la nonnina. Ogni parola è carica di un senso profondo di premura, come un inno a preservare il poco che rimane di normalità in mezzo al caos. È un istante intriso di pathos, dove l'angoscia si mescola con l'amore materno e il suono dei passi di Fadik risuona nel silenzio notturno, accompagnato dal tintinnio soffuso delle collane e dai sussurri sommessi della notte. In questa scena la fragilità della vita familiare si manifesta con forza mentre il destino di Kemalì pende nell'equilibrio instabile della notte. Mentre la tensione si dipana nella villa, Sermin, come suo solito, sembra guardare la situazione con distacco. Il suo volto riflette una sorta di soddisfazione. Nel contempo, Zuleia, a malapena trattenendo la sua impazienza, osserva la scena con occhi che tradiscono una crescente irritazione. Nel buio della notte, l'oscurità abbraccia i tre rapinatori che hanno trafugato Keremalì, rendendo le loro figure ombre sfuggenti nella penombra. Il silenzio notturno è interrotto solo dai passi frettolosi e dai sussurri tesi della tensione. La nebbia dell'incertezza si diffonde nell'aria, rendendo palpabile la suspense che avvolge la scena. Akan, figura imponente, la sua voce, ferma e decisa, taglia l'aria come un coltello affilato, mentre domanda ai rapitori il loro destino. È un momento in cui il destino di Keremalì pende nell'equilibrio precario e la risposta di questi oscuri personaggi determinerà il corso degli eventi. Zuleia, nel frattempo, si coordina con abilità nell'organizzare l'uscita della nonnina e dei bambini, con le valigie pronte per l'inevitabile fuga. Infine, gli agenti giudiziari, freddi e metodici, procedono al sequestro della villa. La luce della loro autorità si infrange contro la quiete notturna, mentre la dimora che un tempo era un rifugio sicuro viene invasa dalla dura realtà della legge. È un momento di svolta, dove la vita della villa è strappata via dalla normalità, portata via dalle mani implacabili dell'autorità giudiziaria. Ma non finisce qui, iscriviti al canale. Sarà un piacere accompagnarti nella scoperta della nuova soap opera Endless Love. Siamo pronti a immergerci insieme in questa nuova avventura ricca di emozioni e colpi di scena e tanto amore. Iscriviti al canale, resta connessa e scrivimi, sì o no. Nei commenti, se la vuoi vedere, anche tu.